Presidente, illuminazione e strade a cui serve manutenzione tanta, la neve che potrà arrivare visto che si avvicina all'inverno e risorse sempre poche. Cosa succederà? Ah non lo so, oggi in giunta abbiamo avuto le richieste di previsione per il minimo di decenza per la gestione degli impianti elettrici, per la manutenzione delle strade che non vuol dire farle diventare belle vuol dire tappare le buche e per avere una piccola riserva per lo sgombero neve e tra tutto saltano fuori 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 7 che non sappiamo dove andare a prendere, con un governo che dice che supplirà la diminuzione dei trasferimenti agli enti pubblici liberando il patto di stabilità. Però io vorrei che smettessero di prendere in giro i sindaci e anche i presidenti di provincia perché tutti sanno, credo che l'abbiamo capito tutti, che il patto di stabilità dà la possibilità di spendere in conto capitale, ovvero fare opere mentre invece i tagli dei finanziamenti da parte dello Stato impediscono di fare le manutenzioni che sono in parte corrente. Quindi tra l'altro diminuendo le manutenzioni peggioriamo lo stato delle strade e tra un po' le strade, anche se avremo e se qualcuno ci darà i soldi per tappare le buche, non sarà più sufficiente tappare le buche perché dovremo rifarle tutte completamente e allora ci vogliono centinaia di milioni di euro. Forse dovrebbero smetterla di raccontarci le valle. Assessore Erdogan, ci sono delle novità per quanto riguarda la trasmissione delle istanze per l'AUA, l'autorizzazione ambientale, per quanto riguarda comuni ed aziende? Sì, direi autorizzazione unica ambientale, appunto come lei diceva, AUA. E questo è stato deciso da un decreto del Presidente della Repubblica nel marzo scorso. La provincia di Bergamo che cosa ha fatto? Innanzitutto si è organizzata il proprio interno costituendo un ufficio ad hoc che si chiama proprio ufficio AUA. Secondo, sta informatizzando tutta la procedura in collaborazione con la Camera di Commercio perché se trattandosi di autorizzazioni ambientali, quindi di emissioni, di scarichi, di rumore la competenza è della provincia, ma poi chi darà l'autorizzazione è il Comune attraverso il suo sportello unico, cosiddetto SUAP. Per cui attraverso il computer le ditte potranno accedere a questo sportello, le domande poi arriveranno in provincia, la provincia le valuterà e le ritrasmetterà al Comune che poi le darà alla ditta interessata che ha fatto la domanda.